L'appalto per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza del nuovo stadio di Acquasanta è stato giudicato in via provvisoria dalla ditta Sicce SRL di Agrigento, che ha preceduto nella graduatoria la Marone SRL, la Strikig SRL e la Michele Di Cola. Le buste sono state aperte martedì pomeriggio. In questo modo l'amministrazione comunale ha terminato la procedura di negoziazione per affidare questi lavori, che rappresentano un passaggio molto importante e atteso per il completamento del nuovo stadio, che ha subito ritardi eccessivi, provocando il malumore dei tifosi rosso-blu che lo attendono ormai da anni. Affidamento provvisorio perché tutte le carte ora andranno al settore ricostruzione pubblica, che dovrà ovviamente fare le opportune verifiche richieste dalla legge, vale a dire Durca, Antimafia e tutte le altre procedure richieste. Una fase che precede il passaggio dell'aggiudicazione definitiva, con i 30 giorni nei quali altre aziende concorrenti potranno fare eventuali e possibili ricorsi. L'importo a base d'asta era di 299.557 euro. I tempi di realizzazione sono stati fissati invece in 28 giorni. L'assessore alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila, Maurizio Capri, ha dichiarato che verranno montate circa 100 telecamere, posizionate sia negli spazi interni che in quelli perimetrali, comprese le aree di accesso e i parcheggi. Capri ha promesso che l'impegno sarà continuo, affinché quest'opera sia fruibile nel più breve tempo possibile.